Il remake di Silent Hill 2 è una data di uscita. Ah, finalmente. L'informazione tanto attesa è stata infatti rivelata dal trailer reso pubblico nel corso dell'ultimo State of Play di Sony, un'occasione questa durante la quale Konami ha pensato anche bene di presentare in maniera più approfondita il suo prodotto, che, lo ricordiamo, è previsto su PS5 e PC per il prossimo 8 ottobre. L'obiettivo del publisher giapponese era quello di cambiare quindi il tono della narrazione emersa fin qui attorno al progetto affidato a Bloober Team, offrendo agli utenti uno sguardo più dettagliato sul lavoro dello studio, nonché arricchendo il tutto con un lungo trailer del gameplay. Ebbene, quali sono state le nostre sensazioni di fronte all'ultimo showcase? Beh, seguiteci nella nebbia per scoprirlo. Il trailer con la data di uscita di Silent Hill 2 segna anche il ritorno di uno dei personaggi centrali del gioco, Angela Orosco, ovvero una donna tormentata e misteriosa che James Sunderland incontra in diversi momenti della sua permanenza sulla Collina Silenziosa. Ed è proprio Angela che avverte l'uomo di quanto sia potenzialmente pericolosa quella città, invitandolo quindi persino ad andarsene. Ma non che James sia granché disposto a seguire il suo consiglio, ben inteso. Attirato infatti fra le nebbie di quel luogo inquietante da una lettera apparentemente scritta da sua moglie Mary, è infatti disposto a qualsiasi cosa pur di scoprire la verità dietro quel messaggio. E certo, tutto fa pensare che sia stata davvero Mary a scrivergli quella lettera, ma com'è possibile se è morta tre anni prima a causa di una brutta malattia? Ok, ad ogni modo torniamo un attimo ad Angela. Nel remake la donna conserva i tratti psicologici che la caratterizzavano nell'episodio originale, ossia quelli di una ragazza che porta addosso i segni di un passato da incubo e che inoltre non ha mai superato i propri traumi. Questi ultimi si manifestano poi in maniera concreta nella forma del mostruoso Abstract Daddy, ovvero una sorta di fusione fra la sagoma di due persone e un letto. Rispetto al design del 2001, però, il personaggio è stato per certi versi normalizzato, ed è stata infatti eliminata quella magrezza che la contraddistingueva e che in qualche modo sembrava collegata al suo profondo malessere. Una scelta questa che diversi utenti hanno anche aspramente criticato. Durante la Silent Hill Transmission, ovvero l'evento che Konami ha trasmesso dopo lo State of Play, gli attori e gli sviluppatori di Silent Hill 2 hanno raccontato la loro esperienza con il remake, parlando delle sfide che si sono trovati ad affrontare nell'ambito di questo progetto. Luke Roberts, ad esempio l'interprete di James Sunderland, ha spiegato di aver prestato molta attenzione nel restare fedele al gioco originale, intenzione questa condivisa anche da Salome Gunnar's Doctor, ossia l'attrice che interpreta Maria. I due attori hanno poi sottolineato il modo in cui le tecnologie impiegate da Bloober Team abbiano consentito loro di donare ai rispettivi personaggi un'ampia gamma di espressioni facciali, che durante le sequenze di intermezzo comunicano in maniera molto chiara le emozioni che James e Maria, nonché ovviamente anche Mary, provano. Dal canto loro, invece, gli sviluppatori hanno dichiarato che la storia del remake sarà fondamentalmente la stessa dell'originale, sebbene alcune modifiche anche tecniche abbiano posto sfide inedite proprio in merito alla narrazione. E tra queste c'è ad esempio il cambio di visuale, che ora è posizionata alle spalle del protagonista. In tal senso si è parlato poi molto anche degli scenari, e di come siano stati modificati al fine di risultare più autentici, andando quindi a costruire e ad aggiungere elementi al design del 2001. L'ammodernamento del sistema di combattimento ha invece presentato grandi difficoltà. L'intenzione degli sviluppatori, infatti, era quella di ottenere un risultato che rendesse giustizia all'originale, ma che al contempo lo proiettasse nel presente, mettendolo quindi a confronto con i survival horror odierni. Ma la presentazione di Silent Hill 2 non sarebbe stata completa senza il lungo montaggio di gameplay pubblicato da Konami, che ha finalmente mostrato il remake sotto una luce diversa rispetto a quanto già visto finora. Se vi ricordate, infatti, il nostro primo contatto con il gameplay non ci aveva fatto gridare al miracolo, anzi, alcune animazioni durante i combattimenti erano legnose, con gli stessi scontri che apparivano poi privi di tensione. Per fortuna, le nuove sequenze sembrano invece suggerire un'esperienza ben più solida, per quanto probabilmente tradizionale nelle sue meccaniche. Diciamo tuttavia che gli espedienti utilizzati da Bloober Team per quanto riguarda la direzione e gli elementi horror non risultano rivoluzionari, ma danno comunque l'impressione di funzionare bene, complice anche un comparto tecnico e artistico che in molti frangenti mette in campo delle ottime idee. I combattimenti nello specifico hanno infatti guadagnato parecchio corpo e concretezza. Il modo in cui James brandisce le armi, ma soprattutto la sua variazione ogni volta che subisce un colpo risultano più convincenti, così come l'approccio rispetto al munizionamento che finalmente sembra gridare survival e che obbliga ad alternare pallottole e mazzate anche sui nemici più comuni. Questi ultimi inoltre riprendono e rifiniscono l'aspetto che avevano nel 2001, aggiungendo però un set di movimenti più ricco e completo che include anche reazioni differenti a seconda di ciò che accade durante i combattimenti. Un colpo di pistola inferto alla gamba di un'infermiera la fa infatti accasciare esponendola al nostro uso del bastone, mentre una fucilata in faccia si conferma una mossa quasi sempre letale. Insomma, per quanto ci sia ancora un bel po' di legno nei movimenti del protagonista, la nuova presentazione di Silent Hill 2 ha senz'altro avuto il merito di mettere questo rifacimento sotto una luce differente rispetto alla tiepida accoglienza iniziale. Naturalmente è ancora tutto da verificare, ben inteso, ma adesso possiamo senz'altro guardare all'8 ottobre con maggiore fiducia. Anche voi la pensate così? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nemmeno un aggiornamento su questo attesissimo remake. Prima di andare ricordate come sempre di dare un'occhiata ai contenuti qui accanto, magari c'è qualcosa che può interessarvi. Nel frattempo noi ci salutiamo e ci rivediamo al prossimo video, sempre qui, su Multiplayer.it.